Riparte a ottobre la nuova edizione del censimento permanente sulla popolazione, un appuntamento che l'Istat realizza ogni anno per avere un quadro sempre aggiornato delle caratteristiche socio-economiche e strutturali della popolazione che dimora abitualmente nel nostro Paese. Con il 93,2% dei questionari compilati l'ultima edizione ha visto il tasso di partecipazione più elevato della nuova stagione dei censimenti che si è avviata nel 2018, un dato che conferma l'investimento in qualità e miglioramento costante dei processi che l'Istat ha fatto in collaborazione con i comuni e con le prefetture. Quest'anno sono 2.530 i comuni coinvolti e circa un milione le famiglie chiamate a partecipare. Il censimento è una fonte inestimabile di conoscenze granulari per la collettività e le istituzioni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale, culturale e ambientale. Assicura informazioni che scendono dalla scala nazionale alla scala regionale alla scala locale e consente anche un confronto a livello internazionale. Restituisce informazioni importantissime sul nostro vivere quotidiano, sulle nostre abitazioni, sui nostri spostamenti e grazie ai dati sulla cittadinanza ci permette anche di ripercorrere e di cogliere le trasformazioni principali dei movimenti della popolazione. L'operazione censuaria è quindi un momento importantissimo di ascolto e dialogo e in questa prospettiva voglio ringraziare tutte le famiglie che parteciperanno a questo censimento per la loro collaborazione e auguro fin da ora a tutti noi buon lavoro. Grazie.